Grazie a tutti. Sapete che all'inizio è stata una corsa un po' in salita perché c'erano alcune prevenzioni, alcuni pregiudizi, però io quello di aver dimostrato facendo la campagna elettorale, stando in mezzo alla gente, lavorando con i partiti anche della sinistra, di essere davvero uno di loro ed è un onore per me oggi rappresentarli anche con questo nuovo ruolo. Sicuramente l'effetto Renzi è stato forte, si è estrinsecato in un'eccezionale vittoria alle elezioni europee dove il centro-destra ha ottenuto solo il 35% dei voti, siamo riusciti a risalire al 42% alle comunali e oggi quasi al 47%. Non è bastato. Il vento del cambiamento di Renzi è arrivato anche a Bergamo? Subito in diretto adesso. Sì, mi pare di sì. È un vento che vedi qui rappresentato da tutte queste persone. È stata una grande campagna elettorale in cui tanti si sono dati compassione, coraggio, straordinario impegno e io sono qui a ringraziare loro principalmente. Se l'ha sentito il segretario del PD? No, non l'ho sentito. Cosa gli dirà? Se non lo sentirà? No, mi sarebbe piaciuto di un collega, però adesso mi fa un altro mestiere. Io seguo a distanza. Magari tra qualche anno. Magari tra qualche anno.